ciao a tutti oggi completiamo l'esercizio che abbiamo cominciato nella lezione precedente rivediamo tutta quanta l'animazione prima noi abbiamo fatto questa prima parte con tutti questi elementi ecco adesso noi dobbiamo ricreare questa seconda parte qui dove c'è il tablet e la stampante ma anche questi due prodotti hanno le stesse identiche animazioni che avevano la prima parte questo è un caso in cui di solito si procede in questo modo qui la prima cosa che io faccio siccome voglio un gruppo di elementi che si comporta allo stesso modo anche dai cinque secondi in poi che faccio io qui nella timeline ho il livello già pronto che contiene dentro tutto lo duplico questo entrata prodotti qua lo seleziono vado in edit duplicate quindi ho due volte la stessa composizione prodotti uno con le stesse animazioni e che faccio io voglio che il duplicato cominci nel momento in cui finisce il primo quindi prendo la barra di questo livello duplicato la sposto in avanti e la faccio cominciare nel momento in cui andiamo a vedere lentamente quando la prima animazione è praticamente finita perché sta svanendo entra la seconda quindi aspettiamo ancora un pochino di più lasciamo il tempo che cominci la dissolvenza e poi ecco entrano in campo di nuovo gli stessi due prodotti benissimo e li vediamo animazione fino qua quindi ho primi due e poi di nuovo gli stessi due con la stessa animazione sulla scala e l'opacità finale alla fine anche questo sparirà benissimo ora però al posto di questo secondo livello che è identico al primo ne vorrei un altro che contiene altri prodotti con altre scritte altri prezzi quindi io so che entrambi questi livelli entrata prodotti uno sono tutte e due quella composizione che io ho nella finestra di progetto entrata prodotti uno quindi io avrei bisogno qui nella finestra di progetto una composizione entrata prodotti due da sostituire a questo duplicato qui nella timeline quindi la cosa che adesso io faccio è dopo aver duplicato nella timeline l'animazione fatta qua adesso andare a duplicare anche nella finestra di progetto l'originale in modo da avere due composizioni separate una dall'altra con dentro elementi diversi quindi ripeto torno nella finestra progetto seleziono la composizione entrata prodotti uno e la duplico edit duplicate e siccome l'ho nominata con un numero finale entrata prodotti uno la prima la seconda il duplicato aggiorna l'ultimo numero e lo aumenta di un valore quindi me la chiama già entrata prodotti due e quindi come nome va già bene adesso io la vado ad aprire nella timeline attenzione ci clicco due volte sopra doppio clic e la composizione entrata prodotti si è aperta nella timeline al suo interno ci sono tutti quei livelli che sappiamo ci sono le due fotografie dei prodotti le due scritte la stella i prezzi tutto ma sono ancora gli stessi di prima ma adesso al posto di questi elementi qua io ne voglio degli altri incominciando dalle foto al posto dell'iphone voglio la fotografia del tablet quindi a questo punto si fanno le classiche sostituzioni mantenendo naturalmente tutte le animazioni fatte cioè il telefono ha l'animazione sulla posizione e la scala bene voglio che il tablet che prenderà il suo posto mantenga queste animazioni e per fare ciò lo sappiamo benissimo selezione l'elemento da sostituire iphone vado a cercare la foto che voglio mettere al suo posto tablet tengo premuto il tasto alt e trascino sopra l'iphone poi lascio andare il mouse e dopo l'alt è importante l'ordine l'alt bisogna rilasciarlo sempre per ultimo ora verifichiamo che l'animazione ci vada bene perché avendo sostituito le foto a volte la grandezza diversa delle foto la proporzione diversa potrebbe non andare bene andiamo a vedere nel filmato finale se ci va bene così direi di sì sia come posizione finale sia come grandezza ci siamo quindi non cambio nulla sostituiamo anche il computer quindi lo seleziono al suo posto voglio la stampante prendo la stampante tengo premuto il tasto alt rilascio la stampante sopra il computer e poi rilascio l'alt ecco questo è un caso in cui no non ci siamo la fotografia della stampante è molto più piccola dalla fotografia del computer bene quindi io devo correggere la grandezza della stampante quindi ho bisogno di vedere i keyframe associati a questo livello come si fa per rapidamente mettere in primo piano i keyframe di un livello si seleziona tasto u e questa scorciatore alla tastiera mi fa vedere tutte le proprietà che hanno dei keyframe quindi sapevamo già la posizione e la scala io voglio correggere la scala finale di questa fotografia quindi tasto destro go to keyframe time quindi mi allineo con il keyframe che voglio correggere e questo è importante quando si vuole correggere il valore di un keyframe e adesso corrego la grandezza finale io voglio che la stampante alla fine sia grande credo più o meno così come posizione andiamo a vedere forse un po più a sinistra e quindi credo che invece il tablet che credevo fosse nel posto giusto e c'è da spostarlo un po e forse da rimpicciolirlo un po quindi facciamo una correzione anche sul tablet seleziono il tablet tasto u sono già sui keyframe finali bene voglio forse ridurlo un pochino di più e spostarlo leggermente a sinistra modo da staccarli un po bene ok le due foto sono a posto adesso le scritte incominciamo da iphone al posto di iphone devo scrivere tablet devo farlo arrivare lì dove c'è il tablet cominciamo a correggere la scritta anziché iphone tablet quindi doppio clic sul livello testo doppio clic si evidenzia con lo strumento testo e scrivo la nuova parola tablet bene adesso clicco il tasto u per vedere i keyframe che ho messo si lo sapevamo già sulla posizione la posizione finale no deve essere un po più in basso quindi vado sul keyframe finale della posizione tasto destro go to keyframe in questo momento la scritta tablet dovrebbe trovarsi un po più vicina al tablet giustamente qua benissimo è allineato col tablet quindi va bene così adesso correggiamo la scritta per la stampante anziché laptop dobbiamo scrivere printer quindi seleziono la scritta doppio clic visto che devo correggere lettere printer in questo caso credo che c'è da spostare un po tutto a sinistra sia la partenza sia l'arrivo attenzione a come faccio tasto u per vedere i keyframe mi allineo col secondo benissimo però siccome devo correggere la posizione sia finale sia iniziale seleziono tutte e due i keyframe quindi tutti i due keyframe selezionati poi mi sono messo sull'ultimo dei due ora se adesso io correggo la posizione finale guardate bene sposto un po più a sinistra notare che si è corretta la posizione finale ma anche la posizione iniziale perché mi trovavo col cursore su un keyframe che devo correggere ma siccome c'erano selezionati anche gli altri keyframe si sono corretti contemporaneamente anche gli altri ha la posizione invece in verticale direi che la spostiamo un po più in giù anche questo benissimo facciamo una preview perfetto ora le ultime due cose i prezzi attenzione sono rimasti i nomi vecchi quindi stella telefono lo rinomino stella tablet e la stella computer la rinomino stella printer poi adesso seleziono la stella printer e shift il prezzo e con lo strumento selezione perché c'è lo strumento testo ancora attivo prendo lo strumento selezione tasto v esposto a questi due elementi io direi di metterli un po più in basso qua rivediamo il tutto quindi ho esattamente le stesse animazioni di prima con qualche leggera modifica però non ho più messo keyframe ho soltanto corretto il lavoro fatto precedentemente ah no scusate i prezzi non ho aggiornato i prezzi quindi cominciamo dal prezzo del tablet che è il filmato finale sappiamo che è 399 e 299 di là benissimo quindi prezzo del tablet doppio clic 399 mentre il prezzo della stampante doppio clic 299 preview e adesso ci siamo quindi abbiamo le animazioni di entrata di questi prodotti adesso questa composizione qua entrata prodotti che è la nella finestra di progetto la sostituiremo nella composizione finale al posto del duplicato che avevamo fatto prima quindi torniamo adesso qui a lavorare nella timeline sulla composizione esercizio 01 che è quella finale quindi attivo esercizio 01 cliccando qua rivedo la composizione finale dove ci sono dentro lo sfondo la rettangolo giallo la prima composizione entrata 1 con l'animazione sulla scala e l'opacità finali e poi ancora la composizione 1 con la scala perfetto e dissolvenza finale bene al posto di questo duplicato metto l'entrata prodotti 02 che ho finito di preparare adesso e la sostituzione avviene sempre col tasto alt come quando sostituisco foto o altre cose quindi seleziono nella timeline il duplicato da sostituire ci clicco sopra prendo entrata prodotti 02 tasto alt e sostituisco lascio il mouse e poi l'alt adesso qui il secondo livello è entrata prodotti 02 facciamo una preview di tutte quante le animazioni fino in fondo bene primo gruppo di prodotti e poi secondo gruppo di prodotti bene direi quindi che per questo primo esercizio del nostro corso è tutto torneremo poi in futuro a fare altri esercizi ogni volta che bisognerà mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato nelle lezioni precedenti quindi di nuovo ciao a tutti e ci vediamo alla prossima